Una migrante minorenne corre i rischi di una lunga traversata con il figlio in grembo che alla fine ha partorito felicemente all'ospedale di Vittoria. E' la storia lieto fine, una volta tanto, di Marie, arrivata a Pozzallo in uno degli sbarchi dopo essere stata salvata nel Mediterraneo dalla nave di un'organizzazione umanitaria. Dopo un mese trascorso nell'hot spot della città marinara, la donna è stata finalmente trasferita nel luogo sicuro per minori della casa evangelica valdese di Vittoria. Maria ha affrontato il mare a soli 17 anni, sola e incinta di sei mesi. La scorsa notte alle tre all'ospedale di Vittoria, Maria ha dato la luce a Michael Cristiano. Maria è solo una degli oltre 25.000 minori stranieri non accompagnati approdati in Italia nel 2016, un dato più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Ha lasciato il Camerum circa un anno fa per fuggire alle persecuzioni e agli attentati suicidi di Boko Haram, secondo Amnesty in parte di un sistematico attacco contro la popolazione civile, che secondo le Nazioni Unite dal 2013 ha mietuto oltre 770 vittime civili. Marie nel suo paese natale prestava servizio per un'organizzazione sanitaria, informando i giovani sulla prevenzione delle malattie. Poi in Libia ha conosciuto Nelson, padre di Michael. Anche lui aveva lasciato il Camerum, si sono promessi amore durante i mesi di detenzione e di torture, fino a quando non sono stati separati. Se Nelson sia riuscito a sopravvivere al carcere libico al mare, Marie non lo sa. Il piccolo Michael è dunque nato in Europa, il giorno dopo in cui a Trapani sono sbarcate le salme di due migranti bambini. Grazie a tutti.